L'onorevole avvocato, lei sa benissimo che ci sono per il diritto delle situazioni in cui è possibile scusato, anzi doveroso, non ottemperare un ordine, quando ci sono beni superiori in gioco. Lei lo sa benissimo che è così, come è legittimo a volte violare la legge, per esempio per la legittima difesa. Ma lei mi parla sopra perché come sempre quando non sapete cosa rispondere, dovete entrare nel merito, non sa neanche che cos'è lo Stato di necessità, non si permetta. Lei può venire a salire, scusi posso invitare con l'onorevole a bordo dell'Alecule prima che venga punita? No, lei deve salire con me e vedere per favore lo Stato di necessità.